Dopo quasi un mese il campionato italiano velocità Moto3 si rimette in moto, quarta prova delle sei in programma sabato e domenica sul circuito Simoncelli di Misano Adriatico, laddove i giovani centauri, le migliori promesse del motociclismo italiano, già si erano dati battaglia a metà maggio. Riparte anche Filippo Bianchi, il sedicenne pilota lucchese, che finora in questo 2021 è stato accompagnato soprattutto da tanta sfortuna e da una condizione fisica che causa una spalla ballerina, gli ha di fatto impedito di poter rivaleggiare con i migliori dell'otto. Un autentico calvario che si spera possa ormai essere considerato alle spalle. In realtà la gara 2 ad Imola ai primi di luglio ha dato risposte abbastanza confortanti per il giovane alfiere del team Gresini, che con la sua onda numero 7 ha raccolto un settimo posto, che è pur sempre un viatico per riproporsi magari ai vertici, come sperava e come speravano tutti quanti nel suo clan. Del resto ciò che è conforta è che sul talento di Filippo non ci sono dubbi, tanto che è stato inserito non a caso nel progetto appunto Talenti Azzurri 2021. Chiaro però che deve ritrovare la migliore efficienza fisica e anche quel morale che gioco forza se n'è andato un po' sotto i tacchi. In tal senso il secondo appuntamento stagionale di Misano dovrà darci risposte importanti sulla possibilità di rivedere magari a fine stagione il miglior Bianchi. Lui, il giovane pilota lucchese, è ancora molto giovane, 16 anni, classe 2005, e quindi ha tutte le possibilità di prendersi delle clamorose rivincite sugli avversari, ma soprattutto sulla sfortuna, antipatica compagna di viaggio di questo 2021. Importante è crederci.